ragazzi davvero una cosa emozionante luna e paco luna appena partorito finora dieci cuccioli l'ultimo è proprio questo qui questo giovanotto qui o signorina ecco qui luna sta ovviamente pulendo i cucciolotti sembra stiano tutti bene per fortuna dieci cuccioli e non sappiamo se abbia finito purtroppo non sono riuscita a darvi immagini del di questo parto perché ovviamente non c'eravamo stavamo lavorando quindi non siamo riusciti a darvi il meglio di questa emozione ecco questo ciò che rimane dell'ultimo parto dell'ultimo cucciolo ovviamente ho i guanti e farò da assistente mamma sarò la tata e controllerò personalmente questa questa vicenda dove ce ne sarà bisogno siamo attrezzati con latte e biberon se ci sarà bisogno altrimenti daremo assistenza psicologica la mamma luna coluna sta pulendo emozionante vedere tutto ciò ricordiamo luna e paco sono due labrador ecco lì qua è la cosa più bella che si possa vedere in questo momento ecco come si stanno attaccando in questi giorni luna mi ha sempre cercata questa notte è stata veramente male sono stata con lei e questa mattina ha deciso di partorire senza aspettarci ovviamente con la massima tranquillità pacco pacco è particolarmente nervoso come papà ovviamente un cane non può fumare si è andato a rosicchiare il suo osso direi che è bellissimo vedere tutto questo auguri 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 zia bravissima sei tranquilla ok adesso lasciamo per un attimo queste immagini ci rivediamo magari dopo lasciamola tranquilla con i suoi piccolotti e magari chissà ne dovrà fare un altro a dubbolo adubo Grazie.